Hello guys, RandyRan here Benvenuti in questo nuovo video qui sul mio canale Siamo su agar.io O agar.io, come volete chiamarlo E ho visto che l'ultimo video Che avevo fatto appunto su agar.io Vi era piaciucchiato abbastanza E quindi facciamone un altro Oh no 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 no, subito Oh, fermo, fermo Vieni qua, fate magna Bravissimo, oh 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 Randy, iniziamo bene Oh signori, stavolta iniziamo bene Eh, swagman qui Vai con calma Allora io ci sto giocando dal portatile Quindi mi viene strano sia giocare con il mouse Che giocare su uno schermo più grande In realtà, però signori Ce la possiamo fare, mi avete detto Che mi consigliate di mangiare palline Fino a circa 300 di massa Se è fattibile, e poi Di iniziare a mangiare gli altri Quindi siamo a 200 qualcosa Io come vedete gioco con lo show mass Perché appunto, così mi faccio Un'idea di quanta massa abbiamo E poi Un attimino dovevo cercare di capire Cosa riusciremo a fare Allora, intanto Assorbiamo Oh, subito, vieni qua Vieni qua, fatti mangiare Fatti mangiare da me Fatti mangiare È troppo veloce, signore È troppo veloce Niente, andiamo via Il primo C'è l'Austria in testa Austria, please Dacci un po' di massa Così andiamo Andiamo a bomba Allora Cerchiamo di arrivare A 300 Non dovrebbe essere così difficile Con le palline Se riusciamo No, swagman Mi fa paura però Via, 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 via Mi fa proprio paura Ok Anche quel no name Sinceramente mi fa molta paura Signori Oh, si mi fa moltissima paura No, no, no Non rendi corri Bravo 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 Così Vai via Noi fateci giocare con calma Non assorbireci Noi non assorbiamo nessuno Almeno per il momento Eh, eh Ok 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 Putin nella Francia Putin Eh no, niente, niente Né Putin nella Francia Mannaggia il cavolo Anche quel team non serve male Cameron mi sa che c'è piglia Pure Moon Mi sa che c'è piglia Signori andiamo via Scappate Via, via, via Oh Moon Oh my god Moon Oh my god Moon Ok signori No, no, signori Dobbiamo stare attenti Allora L'Austria potrebbe essere Interse L'Austria L'hanno sfondata Era prima Signora Adesso prima c'è Hulk Giusto Perché Hulk è grosso E ci sta Ci sta che sia prima La lotta di Randy E la sua palla Per diventare primi del serve Prima o poi ce la faremo Non penso Ma vabbè Ma vabbè Fatti mangiare Aiuto Perché hai fiddato Quel tipo Fino all'inverosibile Guardatelo Guardatelo L'ho fiddato Fino all'inverosibile Io devo scappare Questo che sta registrando Video su youtube Immagino Agar youtube No L'Austria Austria plis No, 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 amico mio Vieni qua, oh c'è un dodge Vieni, vieni, vieni Ma sono parte dello stesso Dodge secondo voi Forse sì, non lo so Non penso, oh 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 Facebook, Facebook Facebook, facciamo Uniamoci Facebook Uniamoci, dai Facebook No, forse Poteva essere una buona idea Facebook No, no, no L'Austria è cattiva però Signori siamo nella merda Quello dell'Austria però sa giocare perché era diventato Grande così e invece adesso guardatelo A meno che non abbia qualcuno Che lo fiddi, non penso Però insomma, eh, non se ne cava mai Stavamo andando dentro Non è Imo proprio, sempre con Cattiveria, no, 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 no Oh signori abbiamo Assorbito, mi son diviso, abbiamo assorbito Chi se ne frega Oh la la, almeno abbiamo fatto Qualcosì, oh Oh dodge, dodge, oh Oh sì dodge Bravo così Vai Randy Cazzo Andiamo Allora adesso Ci dobbiamo un attimo riunire Randy Se riunisci le tue palle In una sola palla So che suona bruttissimo Ma Ci sarà una palla Sception Alquanto interessante Signori Hulk ci ha assorbito la palla Non bello Non è bello Però noi siamo Abbastanza grandicelli Possiamo insieme a fare Delle cose carocce Vediamo Hulk non lo possiamo assorbire Ma quelli là davanti Secondo me sì Quindi andiamo piano piano Verso di loro Sperando di non perdere Troppo massa Perché mi piacerebbe Mantenerla Signori Oh mio dio Ok Ok Iniziamo già a ragionare Agar YouTube Bravo Bravo così Oh Piano piano signori Piano piano Iniziamo a fare Delle giocate carucce Doge si è fermato signori Oh Ok 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 Signori Ok Ok Riesciremo a entrare in classifica A sto giro Chi lo sa Chi lo sa Intanto io vorrei far riunire Le mie palle qua Ma Giusto Per dividerle poi ancora Più che altro Però mi piacerebbe riuscire a A riunirle Ma mi sa che non è molto affattibile Come cosa Ok Oh E' esploso Ci siamo riuniti Oh Bitch Oh Tutto mio Tutto mio Signori Rendi ha un suo piccolo impero Adesso E siamo non in classifica Vai così Oh Vai così Cavolo Se riuscissimo a rientrare Tutti almeno in due palle Sarebbe carino Almeno in due palle Ci sta inseguendo il mondo Signori Tutti vogliono un pezzo di Rendi Perché No Non potete avermi Mi dispiace Sono solo mio Sono 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 No No Sì 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 Oh Ok E adesso Non fate più gli sbruffoncelli Non fate più gli sbruffoncelli Bitch Sesti signori Andiamo così Oh Siamo lenti come Non so che cosa però Ridividi Oh Oh Ho fatto una minchiata Ho fatto una minchiata Mi sono ridiviso dentro Agar YouTube Signori Siamo settimi Ma ho fatto una minchiata Ok È stata una grossa minchiata Questa Dobbiamo riuscire a Stalin Please Stalin Vieni da me Eh no Non ti posso assorbire Stalin caro Sei Sei tanto contento Tanto bellino Ma non posso assorbirti Quindi Quindi mi dispiace Dobbiamo Dobbiamo riuscire a riunirci E riassorbire Agar YouTube Che ci ha fatto fare No 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 Una brutta cosa Ok signori Stiamo riunendo la mega palla Oh yes Benissimo Siamo ottavi però Stiamo perdendo potenza Perché ovviamente Per chi non lo sapesse Più siamo grandi Più ci muoviamo E più Perdiamo massa Questa cosa Non va bene Dobbiamo diventare Più grossi Signori Più grossi E quella potrebbe essere Ma perché sono sempre Troppo lontano Cazzo Cazzo Ok Ok no signore Dobbiamo cercare di Di riprenderci In qualche modo Assolutamente Assolutamente Dobbiamo cercare Di riprenderci In qualche modo Ok signori Siamo in una brutta situazione Abbiamo Hulk Alle calcagna Che vuole prenderci Però siamo In un posto Non male Sapete Perché se abbiamo Un po' di culo Riusciamo a assorbire qualcosa Eh ma la vedo tosta Poi abbiamo sto Hulk Che ci vuole prendere Tutti i costi Giustamente Perché se si riunisce Sono cazzi amari Proprio Andiamo via 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 Scappiamo proprio di brutto Ok Ok Quello si sta riunendo Signori E' bruttissimo E' riunito Cerchiamo di riunirci Anche noi Oh Oh no 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 cavolo ci ha preso Cavolo Ci ha preso una metà Cavolo signori Siamo scesi tantissimo Ok signori Siamo stati assorbiti da Nasa Mi disp Ok Prima morte Signori Ci siamo Ce la siamo giocati Molto molto bene E' stata una bella partita Secondo me Un po' lentina Però molto bella Datemi dei consigli Per migliorare qua su agar.io O agar.io Come preferite Chiamarlo E noi ci vediamo al prossimo video Enjoy E che non sia con voi Bye 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 bye